Una ricerca sul grado di soddisfazione dei dottorandi per il progetto Eureka. Quali sono i risultati? Sì, questo questionario ci ha dato dei buoni risultati, anche più dell'atteso. Abbiamo voluto misurare il grado di soddisfazione nell'interazione con l'università e con l'impresa e nella frequenza di interazione, di contatto con i loro tutori, quindi non misura i risultati della ricerca ma misura proprio l'aspetto sociale del dottorato e è abbastanza importante anche vedere che cosa loro vogliono fare nel futuro a questo punto dopo tre anni di esperienza e quindi portiamo anche questo risultato e c'è una buona percentuale che vorrebbe rimanere nell'impresa. Anche mettiamo in evidenza alcuni aspetti critici attraverso domande aperte, quindi i dottorandi si sono spontaneamente dichiarati in quelli che sono stati i problemi che hanno avuto e anche questo ci dà degli spunti per migliorare nel futuro.